Amici dei Senza Giacca, buongiorno. Siamo qui con Giovanni Palazzi di Stage Up Consulting, un mago del turismo sportivo. Ed è anche un bolognese e quindi un grandissimo tifoso dei Rosso Blu. Senti, come l'hai vista ieri sera con la Juve? Purtroppo il risultato era un po' scontato. Adesso quest'anno pensare di andare a vincere all'Alle Naziarina sarà un po' difficile per tutti. Io non credevo, vista anche la partenza della squadra, non credevo davvero potessimo fare molto di più. Però ti aveva illuso la vittoria con la Roma? Diciamo che la vittoria con la Roma mi aveva fatto prendere un po' di speranza, perché quest'anno all'inizio è stato un po' al cardiopalma. Non se ne aspettava nessuno una cosa di questo tipo. Anche e soprattutto saputo, credo, che comunque rimane una persona che apprezzo molto, se non altro per la speranza che ha dato a noi tifosi bolognesi. Grandioso. Senti, noi siamo dei sostenitori di Santander. Ti piace come è il centravanti quest'anno? Al momento, visto il numero di reti, non mi esprimo. Diciamo che andiamo verso la fine dell'anno per esprimere un giudizio. Ok, grazie mille.